Intersterla Verrari come sapete è un pezzo che lascia ampio spazio all'improvvisazione perché appunto i Floyd in quell'epoca, soprattutto dal vivo, si divertivano a cambiare i pezzi tutte le sere, rimanevano certamente nelle parti centrali che facevano riconoscere i brani ma poi partivano e chi li fermava più. Vedrete che persino Zappa all'inizio, rimane un po' interdetto dicendo ma è adesso? Ma è provocato? E poi si lascia andare come vedete, questa è appunto. Il filmato e il vedo dei Pink Floyd con Frank Zappa in Intersterla Verrari. E' il primo primo giorno, il Pink Floyd, Chris Fungnappar. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.